L'Aso Romagna pronta a correre ripari per snellire i tempi lunghi per poter accedere al tampone oppure per conoscere l'esito. Infatti i centralini sono in tilt, ma l'azienda sanitaria ha annunciato nuove modalità e supporti per accorciare le liste di attesa. In primo luogo, spiegano, si è concretizzata l'attivazione delle convenzioni con alcuni laboratori privati che arriveranno a processare 2.500 tamponi al giorno. Contestualmente sta iniziando l'utilizzo di tamponi antigenici che hanno tempi di processazione più veloci e che saranno utilizzati per gli esami di screening per particolari categorie di utenti, sanitari, forze dell'ordine e altri, dei quali sarà conseguentemente sgravata l'attività di analisi dei tamponi legati a contract tracing e gestione dei pazienti. La crescita dei casi positivi ha anche determinato un importante aumento delle quarantene delle relative comunicazioni cittadini. In questo senso l'Aso fa sapere che si è subito ammossa per sostenere dal punto di vista amministrativo anche questa parte di attività. Si è in primo luogo continuato a lavorare sul fronte degli operatori andando ad individuare dipendenti amministrativi di altri settori che si sono resi disponibili a supportare l'attività di comunicazione con l'utenza. Sono state attivate anche 10 nuove postazioni lavorative per il personale inviato dalla protezione civile che si affianca all'esercito impegnato sul fronte dei drive-thru. Non va dimenticato, spiega l'Aus, anche un aspetto importante dal punto di vista tecnologico. È stata effettuata l'informatizzazione delle procedure amministrative relative, i provvedimenti di quarantene di relativa conclusione che consente il tempestivo invio delle notifiche direttamente ai cittadini interessati. Grazie a tutti.